L'Aquila Grandi Speranze, ma si potrebbe pure dire l'Aquila Grandi Rimostranze. La prima è stata accompagnata da tante polemiche sui social, ma non solo, perché pure la politica è intervenuta a gamba tesa nel dibattito sulla fiction L'Aquila Grandi Speranze, con la deputata del PD Stefania Pezzopane, durissima, che ha parlato di grandi bugie, ma anche con il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, che ha annunciato che farà tutto ciò che è nelle sue corde per ribellarsi a quella rappresentazione data. La fiction in sé puntate del regista Marco Risi, ambientata all'Aquila dopo un anno dal terremoto, è stata bocciata dalla maggior parte degli aquilani. In un'intervista realizzata pochi giorni fa, Risi spiegava come era nata l'idea. Io ero venuto qui la prima volta un anno e mezzo dopo il terremoto, quindi nel 2010, nel settembre, ottobre esattamente, quando si svolge la serie. Camminando per questa città e sentendo soltanto il rumore dei miei passi, mi dicevo, anche un po' cinicamente, ma quello è il nostro lavoro, che sarebbe stato bello un giorno fare qualcosa in questa città, un film. Non immaginavo questo film, immaginavo un film di un'ora e mezza. Sulla fiction è emerso un dibattito vivace, a tratti anche molto ironico, scherzoso, in pieno stile aquilano, che ha scatenato il web. Alcuni hanno già mandato delle mail di rimostranze alla RAI, che ha messo in onda la prima puntata in prima serata, che proseguirà martedì prossimo, ma non solo, perché qualcuno si è spinto pure a chiedere al sindaco di bloccare la messa in onda. A grandi linee, il giudizio degli aquilani è stato impietoso, sia da un punto di vista tecnico e cinematografico, che della rappresentazione stessa. Soprattutto le elevate discudi ci sono state per il ruolo attribuito ai ragazzi aquilani, divise in due bande rivali, che si litigano il centro distrutto, facendo razzia nelle case disabitate e quasi fossero sciacalli. In molti per questo si sono indignati. Alcuni hanno apprezzato invece la storia dei genitori che non ritrovano più la figlia, scomparsa nella notte del terremoto in Piazza Duomo, attribuendogli il significato del dolore e del lutto. Vivono però con la speranza di ritrovarla un giorno, comeppure il ruolo del fratello è piaciuto, che comincia a cercarne le tracce. Molto criticata anche la rappresentazione da parte di chi animò il movimento del popolo delle Carriole, troppo banalizzato per alcuni. Una minima parte di aquilani, solo minima, l'ha trovata tutto sommato buona, ribadendo che si tratta pur sempre di una fiction, di una finzione, che non aveva la pretesa di raccontare la verità o il dramma degli aquilani. Le istituzioni, si diceva, sono intervenute. Molto dura la nota della deputata Stefania Pezzopane. Grandi bugie, ha detto, non c'erano e non ci sono bambini incattiviti, organizzati bandi a scorrazzare nel centro storico. I nostri figli, allora dice la Pezzopane, erano lontani sulla costa nelle tendopoli, a provare e superare la paura e a ricostruire vita e serenità. Il sindaco Biondi ha detto di non aver visto la fiction, ma la terra va rispettata, ha anche detto. Lo sforzo che deve essere fatto da tutti, anche da chi recita, in quelli che una volta erano chiamati sceneggiati, è di raccontare questa città in coerenza con la realtà. Vanno bene le licenze artistiche, ma ritengo che così come Napoli non sia Gomorra, allo stesso modo l'Aquila non è una città in cui bande di ragazzini si aggirano tra cantieri e puntellamenti. Biondi aggiunge che la narrazione dei fatti, attraverso personaggi nati dalla fantasia, deve rispettare comunque il passato e il presente di una terra che ha sofferto e che proprio nei giorni in cui si è commemorato il decennale vede riaprirsi ferite ancora non rimarginate.